Siamo Mirko Alessio, due ballerini di danza latinoamericana e balliamo insieme da più di 4 anni qui alla Mr. Mabbo e quest'anno balliamo nella categoria adulti a 1. Quando dobbiamo affrontare una gara molto importante i nostri allenamenti sono molto frequenti e molto duri, nel senso che ci alleniamo molte volte durante la settimana, più volte, quasi tutti i giorni e soprattutto ci alleniamo con costanza e determinazione per affrontare appunto la gara. L'anno scorso abbiamo avuto un percorso più o meno positivo, sempre con alti e bassi come tutte le coppie, però abbiamo avuto un risultato ottimo con una gara a Sofia in Bulgaria dove abbiamo vinto la nostra categoria e siamo arrivati terzi nell'anno del 21. Quest'anno abbiamo deciso di intraprendere il percorso inglese e siamo pronti appunto per affrontare un nuovo tipo di gare, un nuovo percorso. La gara più importante che affronteremo quest'anno sarà il Black Bull Dance Festival.